Se son rose fioriranno, ma per ora non basta lo scoccare del 21 marzo per fare primavera nel centro-sinistra Ugubino. L'incontro fissato stamane tra la maggioranza a sostegno della Giunta a Stirati, con Libere e Democratici, Scelgo Gubbio, PSI e Sinistra Unita, e il PD Ugubino, che in questi cinque anni era all'opposizione, non ha prodotto effetto. Ma se da un lato è difficile al momento pensare a un accordo, appare altrettanto forzato parlare di un accordo saltato, perché le parti hanno messo sul tavolo la necessità di un programma comune da condividere per il governo della città nel prossimo quinquennio e quindi da presentare alla comunità, come frutto di un percorso senza precondizioni, che poi si arrivi all'intesa, ce lo diranno le prossime ore, con i gruppi civici, in particolare Scelgo Gubbio, più rigido nelle sue posizioni, che si vedranno entro domenica, e il PD, che dal canto suo ha già fissato per lunedì l'Unione Comunale alla sede di Piazzo De Risi, alla presenza del segretario regionale Bocci. Più in là di quella data non si dovrebbe andare, anche perché i tempi per la definizione di un programma e delle liste cominciano ad essere risicati. I rumors di queste ore parlano di possibili richieste da parte delle liste civiche di un passo indietro del PD su alcuni fronti, come il simbolo o la presenza degli attuali consiglieri comunali, ma dalle rispettive fonti, stirati da un lato o smacchi dall'altro, si smorza su questo aspetto. Si punta a trovare la quadra per dare un segnale di discontinuità nei rapporti che fino ad ora tra le parti sono stati di maggioranza da un lato e opposizione dall'altro, ma nessuno detta dei diktat, dicono, puntando piuttosto a un progetto trasparente che guardia una logica di governo in prospettiva, più che di strapuntini immediati, e che abbia il consenso più ampio possibile, con le figure, i rappresentanti e anche le identità politiche o civiche, frutto di un progetto comune. L'impressione che sarà uno weekend in cui non mancheranno colloqui, incontri, valutazioni sul da farsi, con il tentativo, dalle due sponde, di ricucire e mettere in campo una coalizione potenzialmente più solida di quanto non sarebbe una corsa individuale, che poi la ricucitura riuscirà. È tutto da verificare se vinceranno i falchi o le colombe in ambo i fronti, in un quadro nel quale su altre sponde i candidati ai perimetri politici o civici appaiono già chiari, per il centrodestra Presciutti Cinti, con il sostegno di Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia, per il Movimento 5 Stelle, Rodolfo Rughi, per la lista civica Gubbio in Comune, Filippo Farnetti. Intanto il pomeriggio ha visto tutti i protagonisti del confronto odierno, tra maggioranza, consigliare e PD, accomunati alla Sperelliana per assistere al convegno sul Manifesto Liberi e Forti di Don Luigi Sturzo, esattamente di cento anni fa, promosso dall'Associazione Civitas. A un secolo da quella pietra miliare di alta politica, forse una riflessione guardando al passato, ma immaginando l'immediato futuro.